Martedì 17 maggio, sono le 7.30, benvenuti a Buongiorno Regione, primo piano. Noi rientriamo per parlare di Villa Ferretti che da luogo del patrimonio della Camorra è diventato invece luogo di accoglienza per bambini disabili e con la sua spiaggia ha accolto questi bambini per alcune stati, è a Baia, ai piedi del castello di Baia, per quest'estate però lo scenario cambia, ci dice perché Ettore De Lorenzo. Ci troviamo a Baia su una spiaggia della spiaggia di Villa Ferretti, una spiaggia tra l'altro sequestrata insieme a questo bene a un clan camorristico e che l'anno scorso è stato riutilizzato con un progetto sociale che ha avuto un grande successo e soprattutto che ha fatto molto bene a tanti bambini, grazie all'impegno dell'associazione Tutti a Scuola e dell'ASGAM. Cosa è successo? È successo che questi ragazzi che venivano qui, ragazzi disabili per poter godere di questa bellissima spiaggia, quest'anno non potranno più venirci. Torno a Chetti, qual è la situazione? Perché vi negano questa spiaggia e cosa voi chiedete in sostanza? Noi chiediamo semplicemente di fare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, senza costi aggiuntivi per il Comune, anzi probabilmente con una straordinaria notorietà in termini di immagine e anche di fascino sociale. E soprattutto chiediamo di riscrivere lieto fine a una storia che sembra non avere un lieto fine. Fabio Grasso, Fabio vieni qui. Lì c'è anche una barca, che è una barca confiscata, anche un clan questa volta della Puglia. E voi avete trasportato i ragazzi facendogli scoprire ad alcuni, addirittura per la prima volta, il mare. Certo fa rabbia vedere la barca lì che non può attraccare, la spiaggia qui inutilizzata e i ragazzi che non possono utilizzare e non possono godere di questo mare. Guarda, noi stiamo facendo di tutto per cercare di far comprendere appunto all'amministrazione comunale che con poco, veramente con poco e soprattutto con un po' di cuore, dare la possibilità a noi, associazioni operative, operanti sul territorio, di poter regalare un sorriso ai ragazzi che essi siano disabili, che siano ragazzi disagiati, di quartiere a rischio. Ragazzi che comunque devono capire e comprendere quanto bello, diciamo, è il riappropriamento dei beni che una volta venivano utilizzati dalla criminalità organizzata e che adesso sono dello Stato, perché questi beni appartengono a tutti noi. Io vorrei concludere con quella che è l'esperienza fatta dai ragazzi e lo vorrei fare con Maria, che è una mamma dei ragazzi venuti qui l'anno scorso. Mi diceva prima che qui c'è stato poi un livello, un processo di integrazione molto forte. Certo, avere una spiaggia dove ci si può portare il ragazzo senza problemi, senza pensare che può dare fastidio, per noi era una soddisfazione, quindi eravamo felici di questa integrazione. Abbiamo rintracciato il sindaco di Bacoli, Ermanno Schiano, che di fronte alle perplessità e alle richieste delle associazioni ha ribadito che la zona di Villa Ferretti quest'estate sarà interessata da lavori di ristrutturazione e soprattutto ha precisato che l'amministrazione ha offerto un altro luogo a Miseno già gestito da vent'anni dall'associazione Pro Handicap. Lì c'è un problema di accessibilità al pontile, ma il sindaco ci ha detto che il comune è pronto a provvedere all'abbattimento delle barriere architettoniche. Naturalmente, ai primi di luglio noi saremo lì con le nostre telecamere per vedere se gli impegni saranno stati rispettati. Gli aggiornamenti delle notizie con Giovanni Messina In primo piano la crisi dei rifiuti, ieri sera nuovi roghi